giovedì escono i dati di amazon ma in borsa le azioni sono da comprare o da vendere vediamo insieme tocca a me andare a dare la strategia a una carta che ho scelto fra quelle che avevo proposto nel sondaggio andiamo a vedere si parlava di big tech quindi la scelta era fra alfabet amazon microsoft metaplatforms col 35 per cento vinto amazon quindi seconda strategia è su amazon e qui ho iniziato guardando il grafico su base settimanale andiamo proprio a vedere i faccio vedere quelli che sono i livelli che sono andato a indicare ho visto che l'area dei 145 dollari ha tenuto come resistenza come siano capitolati questi supporti dinamici che sono stati espressi a trenerialzista tenuta dai minimi di marzo 2023 in avanti non vado a proporre una strategia short in realtà vado proprio una strategia short ma non lo faccio da questi livelli punto a un ritorno in prossimità dei 136 dollari per azione per la precisione 136 e 60 in caso di insomma movimenti spike a rialzo da avere in occasione anche da diffusione trimestrali per quanto riguarda lo stop beh lo stop necessariamente sopra questi massimi quindi 148 dollari sopra i massimi quelli di agosto del 2022 che quelli più recenti del settembre 2023 un target beh a quel punto cerco di essere ambizioso appunto l'area dei 110 e vediamo si tiene la resistenza anche perché in quel caso si potrebbe venire a creare una figura di più ampio respiro che darebbe insomma una bella spinta in uno futuro qualora si riuscisse davvero a vincere questo livello resistenziale quindi mi aspetto la spalla sostanzialmente destra questa è la seconda carta che vado a mettere sul mercato ti è piaciuta questa strategia bene iscriviti al canale bmpparibà attiva la campanella e rimani sempre aggiornato sulle operazioni proposte dei trader e degli analisti che vedete sfidarvi ogni settimana alle 17 30 ad house of trading grazie grazie grazie